buongiorno a tutti oggi ho intenzione di pulire il frigorifero perché da poi lo sono regolata non ho ancora pulito ho fatto una spesa però devo pulirlo ecco oggi puliamo il frigorifero allora prima di tutto lo sbattiamo mettiamo via tutto quello che c'è lo spengo anche allora ho questo qua anche nel frigorifero l'unica cosa che ha sporzino ormai non va più faccio senza uso così ho preso una faccia pulita a no 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 a no a a Grazie a tutti. 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 Una spugnata nuova con il detersivo per i piatti. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti.